Ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo. Diamo uno sguardo alla previsione per il mercoledì. Ci fa vedere una zona di bassa pressione ancora sui mari del sud in lento movimento verso la Grecia. Attendiamoci quindi ancora qualche precipitazione, qualche pioggia al sud, Sicilia, ma poi anche il medio adriatico. Si sposta invece la perturbazione dal nord e medio-alto tirreno con più schiarite. Ce lo conferma anche la mappa della nuvolosità, la perturbazione ancora su molte zone del centro-sud, invece le schiarite in arrivo da ovest, quindi sulle regioni settentrionali, ma poi anche si libera Toscana e Lazio in giornata. Ecco la mappa nel dettaglio dell'Italia. Clima nel complesso asciutto su molte regioni del medio-alto tirreno, ma soprattutto regioni del nord, invece le piogge altrove, qualche equazione al sud, temperature in lieve calo, però valori sempre oltre le medie del periodo. Con questo per il meteo è tutto, gli aggiornamenti sull'app di Trebi Meteo.